vediamo quali sono i principali punti o controlli per la revisione dell'alternatore e allora per prima cosa bisogna smontare l'alternatore bisogna rimuovere l'intelaiatura finale di guida e il gruppo del rotore dallo statore quindi bisogna rimuovere le tre viti passanti e poi usando un giravite sollevare l'intelaiatura finale e rimuoverla insieme con il rotore bisogna stare attenti a non sollevare i fili elettrici delle bovine poi bisogna rimuovere la piastra portadiodi quindi bisogna tenere l'estremità della piastra portadiodi con una pinza e dissaldare i conduttori isolati bisogna stare attenti ad alcune cose bisogna proteggere il raddrizzatore dal calore tenendo conto che il raddrizzatore è molto sensibile al calore bisogna usare sempre delle pinze a becchi sottili per proteggerlo durante la fase di risaldatura come mostrato qui nella nella figura inoltre bisogna portare a termine la saldatura nel più breve tempo possibile proprio al fine di evitare il surriscaldamento del raddrizzatore dopo averlo smontato bisogna passare al controllo dell'alternatore iniziamo con il controllo del rotore e allora per prima cosa bisogna controllare la presenza di un circuito aperto nel rotore quindi usando un ommetro controllare che vi sia continuità fra gli anelli di contatto la resistenza standard a freddo senza regolatore dovrebbe aggirarsi tra i 3,9 ai 4,1 ohm con il regolatore invece il la resistenza si abbassa da 2,8 a 3 ohm se non c'è continuità chiaramente bisogna sostituire il rotore poi bisogna controllare che il rotore non sia collegato alla massa per farlo utilizziamo sempre un ommetro e controlliamo che non vi sia continuità tra gli anelli striscianti e il rotore qualora vi fosse continuità bisogna chiaramente sostituire il rotore serve anche controllare gli anelli di contatto bisogna controllare che gli anelli di contatto non siano ruvidi o intaccati se lo fossero bisogna procedere alla sostituzione del rotore oppure bisogna controllare utilizzando un calibro il diametro degli anelli di contatto quindi misuriamo il diametro di solito il diametro standard si aggira tra i 32 3 e 32,5 mm e il diametro minimo non deve essere al di sotto dei 32,1 mm se il diametro è inferiore al minimo consentito bisogna chiaramente sostituire il rotore effettuiamo dei controlli anche sullo statore bisogna controllare la presenza di circuiti aperti nello statore quindi utilizzando sempre un ommetro controlliamo che vi sia continuità fra i conduttori isolati della bobbina se non c'è continuità chiaramente bisogna sostituire lo statore altro controllo da fare sullo statore è quello di controllare che lo statore non sia collegato alla massa utilizziamo sempre un ommetro e controlliamo che non vi sia continuità fra i conduttori isolati della bobbina e il nucleo dello statore chiaramente se vi fosse continuità bisogna procedere alla sostituzione dello statore passiamo al controllo delle spazzole bisogna misurare la lunghezza di esposizione delle spazzole lo facciamo utilizzando un righello e come lunghezza standard senza regolatore dovrebbe dovrebbe essere 12,5 mm con il regolatore invece 16,5 la lunghezza di esposizione minima non deve essere inferiore ai 5,5 mm se la lunghezza di esposizione è inferiore al minimo consentito bisogna chiaramente procedere alla sostituzione delle spazzole quindi se è necessario sostituire le spazzole bisogna di saldare e rimuovere la spazzola e la molla bisogna inserire il filo di collegamento della spazzola nella molla montare la spazzola nel portaspazzola bisogna saldare il filo elettrico al supporto alla lunghezza di esposizione specificata dicevamo che la lunghezza senza regolatore deve essere di 12,5 e con regolatore 16,5 dopo averla saldata bisogna controllare che la spazzola si muova con facilità nel supporto e infine eliminare l'eccesso di filo elettrico adesso possiamo passare al controllo del raddrizzatore quindi alla della piastra porta di odi controlliamo però il raddrizzatore lato positivo utilizzando l'ometro colleghiamo il puntale positivo del dello strumento di misura a ciascun terminale del raddrizzatore e l'altro puntale al terminale positivo poi invertiamo la polarità dei puntali e ripetiamo la misura e poi infine controlliamo che in un caso vi sia continuità mentre nel secondo caso non vi sia continuità se la misura dei da risultati differenti da quelli appena specificati chiaramente bisogna sostituire la piastra porta di odi è chiaro che bisogna ripetere il controllo del raddrizzatore anche del lato negativo quindi sempre utilizzando un ommetro colleghiamo un puntale dello strumento di misura a ciascun terminale del raddrizzatore e l'altro puntale al terminale negativo invertiamo la polarità dei puntali e ripetiamo la misura eseguita prima poi controlliamo che in un caso vi sia continuità mentre nel secondo caso non deve esserci continuità se la misura da risultati differenti da quelli appena specificati chiaramente bisogna sostituire la piastra porta di odi e infine come ultimo controllo controlliamo il cuscinetto posteriore quindi bisogna controllare che il cuscinetto non sia né consumato o ruvido qualora fosse necessario la sostituzione utilizzando un estrattore rimuoviamo il cuscinetto e poi utilizzando una pressa inseriamo il cuscinetto nuovo grazie a tutti Grazie a tutti.